Assessore, chiariamo quello che è accaduto nella mensa della scuola di Pescara qualche giorno fa, perché se ne sta parlando, se ne sta parlando anche tanto. Allora, per fortuna innanzitutto bisogna dire che il bambino sta bene, questa era la priorità, è ora un ragazzino allergico. Noi abbiamo attivato tutte le procedure per i controlli, per vedere da che parte c'è stato l'errore e se c'è stato. Quindi nei momenti in cui verificheremo queste cose lo faremo sapere tranquillamente. I controlli sono partiti dal primo giorno, purtroppo c'è stato questo disguido che dobbiamo, come vi ho detto, chiarire, però i controlli saranno sistematici. Quindi io sarò presente domani, dopodomani, dopodomani ancora, quindi sarà a campione, non decido il giorno qui, non saprà nessuno quando io andrò a fare questi controlli. A me interessa la salute dei bambini. Quanto riguarda il caso specifico, qui si parla di un'allergia, quindi non di prodotti che presentavano delle problematiche. Assolutamente no, questo è un caso un po' particolare di un bambino che era allergico al lattosio. Praticamente c'è stata questa somministrazione. Se c'è stata, perché dobbiamo ancora verificare il tutto, perché vogliamo capire, la cosa strana, strana, è che il bambino si è sentito male lunedì, il primo giorno della mensa, la denuncia è stata denostrata venerdì sera.